Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! L'oroscopo della prossima settimana, dal 19 al 25 agosto, rivela numerosi cambiamenti in vista per ogni segno zodiacale, sia in ambito amoroso che lavorativo. I segni più fortunati saranno quelli di terra, toro, vergine e capricorno. Per gli ariete la settimana sarà impegnativa, ma arriveranno novità che daranno una svolta alla carriera. Il toro avrà sentimenti instabili, ma un periodo sereno in amore. I gemelli inizieranno la settimana con il piede giusto, mentre i cancro dovranno fare attenzione ai passi nel lavoro. Il leone vivrà alti e bassi in amore con delusioni passate e momenti sereni nel lavoro. La vergine sarà spinta da venere a provare nuove emozioni, ma con la paura di sbagliare sempre dietro l'angolo. La bilancia avrà ottime novità in amore e opportunità da cogliere sul lavoro. Lo scorpione vedrà il rapporto con il partner diventare sempre più forte, mentre il sagittario dovrà fare attenzione alla gelosia che mette a rischio il rapporto. Il capricorno vivrà un momento di estrema carica con l'arrivo del sole in vergine, mentre l'acquario affronterà la settimana con serenità. I pesci dovranno prendere una decisione difficile, ma il lavoro offrirà buone opportunità. In generale, la prossima settimana sarà caratterizzata da cambiamenti e opportunità.